Enio Pavone è stato un ultimo consiglio comunale, possiamo dire, infuocato sulle polemiche che ci sono state sull'imposta di soggiorno. Le opposizioni di fatto dovono discutere gli oltre 600 emendamenti presentati. Voi volevate cercare un accordo, comunque soprattutto sulla periodicità dell'imposta di soggiorno. Al momento nessun accordo è stato trovato. Sì, è stato un altro consiglio di 14 ore. Le ore impiegate nel consiglio in cui furono adottate queste delibere furono impugnate al TAR. Il TAR ha dato una sospensiva, quindi non è che ha detto che erano illegittime, ha sospeso l'efficacia e poi ha convocato l'udienza a ottobre. L'amministrazione ha ritenuto di andare alla convalida, in base a una disposizione della legge, la 241 del 90, credo che sia. E quindi siamo tornati in consiglio, l'opposizione è tornata lì, almeno parte dell'opposizione, perché devo essere onesto, ci sono chi si è distinto in un modo cercando di collaborare e chi si è distinto invece cercando di metterla in cacciara. Quindi alla fine noi abbiamo fatto tre tentativi di sospensione, abbiamo concesso, abbiamo concesso anche c'era una disponibilità a parlare di togliere due o tre mesi, addirittura per quest'anno poi aprire un tavolo di confronto, visto che c'è anche un ATS della costa terramana, quindi che dovrebbe coinvolgere tutti i comuni della costa terramana, riparlarne in maniera globale e collettiva per il prossimo anno. Non hanno voluto, parte dell'opposizione non ha voluto questa concessione, è andato allo scontro e alla fine ha fatto una magra figura. Ci sarà un confronto successivamente, credo che l'operazione vada fatta congiuntamente con tutti i comuni della costa terramana per uno stesso regolamento, le stesse tariffe e uno stesso periodo temporale.